Ciao e bentornato sul mio canale. Oggi ti sto facendo questo video perché ti voglio parlare dei maestri ascesi. Quando faccio il lettore dei registri agashici, spesso esce proprio la carta dei maestri ascesi. Aspetta che te la faccio vedere. Eccola qua, maestri ascesi. E molte persone mi domandano, Giorgia, ma chi sono questi maestri ascesi a cui mi devo rivolgere? Allora, i maestri ascesi devi sapere che sono degli uomini come noi. E praticamente loro però, che cosa è che differenzia noi da loro? Allora, i maestri ascesi sono praticamente appunto dei maestri, come per esempio lo sono stati Gesù, Buddha, altri che non conosciamo, un po' più misteriosi, tipo Melchisedec, Sai Baba. Ce ne sono veramente tantissimi. E loro che cosa hanno deciso di fare? Allora, loro praticamente si sono reincarnati tantissime volte, sono stati degli esseri umani che si sono incarnati talmente tante di quelle volte, però in ogni incarnazione che cosa hanno fatto? Non è che se la sono spassata, diciamo. In ogni incarnazione hanno lavorato su se stessi al fine di evolvere a livello spirituale e anche di aiutare gli altri ad evolvere, quindi di elevare la coscienza collettiva. E a un certo punto la loro evoluzione, diciamo, è come se hanno deciso di non incarnarsi più come esseri umani, ma di trasformarsi in esseri di luce, però comunque presenti sul pianeta Terra. Cioè non se ne sono andate in altre dimensioni, perché devi sapere che quando noi moriamo possiamo, diciamo, andare in altre dimensioni, possiamo reincarnarci, diciamo ci sono varie opzioni. Loro hanno deciso di non reincarnarsi come esseri umani fisici, cioè come noi che ci vediamo con la pelle, ma di incarnarsi in esseri di luce. Quindi è come se praticamente l'altro giorno guardavo un video di Tiles One, che se non la conosci vi la consiglio, e lei diceva proprio che dobbiamo immaginarci, il nostro corpo dobbiamo immaginare come se fosse la pelle di un serpente e che noi ci incarniamo in queste pelli tante tante volte, noi scegliamo prima una pelle, poi un'altra. Adesso io ad esempio ho scelto questa pelle qua, la pelle di Georgia. Poi se diventerò anche io una maestra scesa, magari deciderò di non scegliere più una pelle, un determinato tipo di pelle, ma di incarnarmi senza pelle, come essere di luce, light being si dice in inglese, no? E perché sono così importanti questi maestri scesi? Perché loro ci aiutano ad evolverci spiritualmente. Infatti loro sono sempre presenti accanto a noi. E quando per esempio durante le letture dei registri le persone mi dicono che si sentono sole, che sentono proprio forte questo senso di solitudine, che spesso provavo anche io, prima di fare tutto il mio percorso spirituale, di cui poi ti parlerò magari in un altro video, ho imparato, cioè non è che l'ho imparato a livello mentale, l'ho proprio sperimentato con la mia anima, che in realtà io sono protetta e circondata da questi maestri ascesi. E che soprattutto quando esce questa carta qua, che esce sempre, ve lo assicuro, sia quando faccio le letture a me stessa, sia quando faccio le letture agli altri, significa che noi siamo continuamente circondati da queste energie di saggezza praticamente a cui ci possiamo rivolgere quando abbiamo dei problemi o non solo. Cioè per esempio io la mattina quando mi sveglio, mi connetto con Akasha e chiedo ai miei maestri ascesi di proteggermi e di farmi agire con saggezza durante la giornata. Aspettate che mi sono preparata una scaletta e vediamo che altro ho scritto. Ok, allora la differenza, che differenza c'è tra noi maestri ascesi? Allora la differenza è che loro praticamente durante le loro incarnazioni hanno sviluppato diciamo dei superpoteri, soprattutto dei poteri legati alla guarigione, quindi sono diventati per esempio dei guaritori, oppure hanno diciamo sviluppato delle capacità di chiaroveggenza, hanno imparato ad elevarsi col corpo, hanno imparato anche a usare la loro mente per manifestare tutto quello che volevano. Infatti c'è una parabola, se non sbaglio, di Sai Baba che a un certo punto ha materializzato perfino un castello d'oro. E questo perché? Perché loro hanno capito che la realtà, in realtà, scusate il gioco di parole, non è altro che energia, che materia e impotenza, però tutto energia. Noi siamo energia, quello che tu vedi è energia, cioè io sono Giorgia che mi vedi così col corpo fisico, ma in realtà tutto energia e tutto è, diciamo, la realtà è una matrix. Non so se hai visto il film The Matrix, la matrice appunto. Che cos'è questa matrice? Non è nient'altro che un programma, un programma, una realtà olografica fatta di sequenze numeriche come in un computer. E questi maestri ascesi hanno imparato a non farsi ingannare dal velo illusorio di Maya, quindi da questo velo di questa matrix, e a utilizzare la loro mente per creare la realtà, per portare nella materia il loro pensiero, cioè per materializzare i loro pensieri. Infatti, proprio creavano delle cose anche dal nulla, potevano materializzarsi e dematerializzarsi quando volevano. E per questo, diciamo, su questo argomento, se ti interessa questa cosa qui sulla realtà, diciamo, come sulla realtà che è basata su queste sequenze numeriche, che noi possiamo cambiare quando vogliamo, connettendoci a queste altissime energie, ti rimando a un video bellissimo di Emiliano Soldani, che magari ti metto qui nel box, che è veramente bellissimo ed illuminante, che ci dice come noi, praticamente, molto spesso, vabbè, non voglio allungare questo video, però, come noi, molto spesso, ci identifichiamo troppo con la nostra realtà fisica, cioè soltanto con quello che vediamo, ma ci dimentichiamo che siamo energia, e molto spesso ci identifichiamo anche con una sequenza temporale lineare, invece di vedere la realtà come un, il tempo come un cerchio, quindi dove non c'è presente, passato e futuro, ma dove coesistono tante realtà parallelamente. Però non voglio, diciamo, sporare in questo video, e ti rimando al video di Emiliano Soldani, che è veramente bellissimo. Questo per dire la differenza tra, cioè quello che si può arrivare a fare quando si lavora su se stessi a livello spirituale. Per questo io adoro la spiritualità e tutto, perché ti dà potere, cioè, capito, e anche connetterti con i maestri ascesi ti dà potere, ti dà sostegno, ti dà fede, ti dà fiducia, ti dà quella sensazione di sentirti proprio protetto nella tua vita, di non essere solo nella creazione della tua realtà, ma che quando tu abbandoni la tua mente e ti lasci andare al flusso degli eventi, non che non significa che tu smetti di volere o di essere intenzionale nel creare la tua realtà, ma quando tu praticamente ti chiedi, chiedi, ecco, chiedi aiuto a queste entità superiori. Alcuni dicono che i maestri ascesi rappresentano il nostro sé superiore, quindi che non sono nient'altro che la nostra parte più saggia. Invece altri, poi ti dirò che cosa pensano, di chi siano veramente questi maestri ascesi. Quindi anche noi, ecco, anche noi quando, scusate se ogni tanto guardo per non perdermi, mi sono fatta una scaletta, anche noi quando moriamo, ripeto, possiamo scegliere se incarnarci o se disincarnarci. E tra i più popolari maestri ascesi ci sono per esempio Gesù, Buddha, Sai Baba, Serapis Bey, la Madonna, quindi la Maria, la Maria Maddalena, ce ne sono veramente tanti, puoi googlare elenco di maestri ascesi e ti esce un elenco di maestri ascesi. e ce ne sono avvalanghe, alcuni dicono che ce ne sono solo alcuni, invece no, se tu li googli comunque non avrai mai la panoramica generale di quanti ce ne stanno, perché sono veramente tanti e perché esistono da, cioè magari, ripeto, ci sono alcuni antichissimi di cui nessuno si ricorda e alcuni modernissimi, per esempio un maestro asceso potrebbe essere Einstein, potrebbe essere quello che ha inventato la Apple, tutti questi, anche, ce ne sono anche che sono qui, cioè nel senso incarnati come esseri umani, ma in realtà sono già maestri ascesi, tutti quei personaggi, diciamo quelle persone che usano la loro energia per il bene della collettività, quindi per il bene di se stessi e per il bene della collettività, quindi non sono però maestri ascesi, per esempio quei personaggi tipo Hitler, Mussolini, Mao Zedong, perché loro hanno usato il loro potere, la loro mente, le hanno messi al servizio dell'ego, quindi per creare qualcosa di non utile per la collettività, ma qualcosa che avrebbe beneficiato solo al proprio ego. E come sono entrata io in contatto con loro? Allora, a un certo punto della tua evoluzione spirituale, se tu comunque sei in un percorso evolutivo, a un certo punto ti incapperai, incepperai nella loro energia, perché o la, cioè per esempio il fatto che tu stia guardando questo video non è casuale, vuol dire che, mi è apparso 1-1-0-1, vabbè, un altro segnale dei maestri ascesi, vuol dire Flynn, Flynn maestro asceso, vuol dire che la tua energia, ciao Flynn, vuole anche lui essere partecipi al video, vuol dire che la tua energia si è elevata all'energia di qualche maestro asceso che ti vuole dare qualche messaggio, oppure che loro ti hanno chiamato, è come una chiamata, ti chiamano, pronto Giorgia? Dove sei? Guarda, perché praticamente non ci dimentichiamo che noi quando ci siamo incarnati su questo pianeta lo abbiamo fatto per una missione e se non sai bene diciamo ancora qual è la tua missione per cui che è il motivo per cui ti sei incarnato ti invito a guardare questo mio video su come scoprire qual è la tua missione dell'anima, te lo posso linkare qui, te lo posso mettere anche nel box delle info e quindi loro ci chiamano, ci dicono ma ciao, ti ricordi perché sei venuta sul pianeta Terra? Quindi ed è come se quando noi allora questo qui è un pianeta scuola ricordati questo Gaia è il pianeta scuola ok? è il pianeta dove noi ci formiamo e quando ci incarniamo veniamo è come se venissimo suddivisi in tanti gruppetti come a scuola dove c'è il capogruppo e noi siamo capitati diciamo devi chiedere devi diciamo facendo delle richieste puoi scoprire qual è il tuo maestro asceso a cui sei stato assegnato io per esempio ho scoperto di essere stata assegnata al maestro Melchisedec perché dici come hai fatto a scoprirlo? allora non è tanto un processo mentale infatti lascia perdere tutti i processi mentali dici oddio adesso ti arrovelli il cervello per scoprire qual è il tuo maestro asceso o la tua maestra ascesa perché ci sono delle divinità donne che ci sostengono mi è venuto naturale nella mia famiglia c'è sempre stato questo richiamo forte alla spiritualità i miei genitori fanno parte di un percorso spirituale e questo nome Melchisedec è sempre risuonato dentro di me però non sono mai andata a vedere chi fosse fin quando non l'ho sentito nominare proprio tra i maestri ascesi allora ho detto già devi andare a vedere chi è Melchisedec e penso che sia proprio lui perché Melchisedec è il maestro del richiamo alla propria missione e infatti io mi sento molto chiamata a diciamo a spronare le persone a scoprire qual è la loro missione quindi penso che il mio capogruppo sia Melchisedec che io sia capitata nel gruppo di Melchisedec anche perché Melchisedec è il maestro che dà proprio la forza e la fede per perseguire la nostra missione quindi sia diciamo colui che proprio è l'energia della forza di cambiamento io infatti sprono sempre le persone anche me stessa quando mi trovo un po' così down perché anche io sono un essere umano e ho questi periodi un po' così down a cambiare a evolvermi a non perdere di vista il mio focus di realizzare la mia missione dell'anima ma è anche energia della fede necessaria per questo cambiamento quindi tu mi starei chiedendo ok Giorgia come faccio allora ci sono diversi modi in realtà per scoprire qual è il tuo il maestro asceso che ti è stato affidato puoi sia magari io ti propongo questo metodo che è molto semplice ti raccogli un attimo in meditazione e chiedi qual è il mio maestro asceso e piano piano aspetti la risposta non forzarti a trovare subito questa risposta perché magari non ti arriverà subito magari ti arriverà domani ti arriverà dopodomani oppure magari trovando che ne so cercando online così ti arriverà il nome di qualche maestro che ne so Maria Maddalena ti si presenta in tanti articoli oppure è un nome che ti risuona tanto e magari è lei che è la tua maestra ascesa adesso lei non mi risuona tanto mi risuona Melchise poi può darsi pure che magari cambia perché non è detto che diciamo noi siamo assegnati a un solo questa è una cosa è un'informazione che ho canalizzato durante questo periodo non è detto che noi possiamo cioè dobbiamo avere sempre lo stesso maestro asceso dipende dalle anche dalle fasi della nostra vita per esempio in alcune fasi della tua vita potresti sentire il ritiamo della maestra Maria Maddalena o di qualche altra maestra femminile per esempio Amaterasu qualche divinità giapponese perché magari senti il bisogno di riconnetterti di più con la tua parte femminile quindi diciamo che questi maestri lo devi scoprire tu e possono anche cambiare quindi magari fai una ricerca su Google e il primo nome che ti risuona proprio tanto magari è proprio quello il tuo maestro asceso e l'importante ecco lo scopo di questo video vuole essere proprio questo cioè di non sentirti da sola veramente noi non siamo o da solo noi non siamo mai soli noi siamo sempre sostenuti io quando mi connetto la mattina con queste con Acasha cioè è un momento per me di grande mi vengono le lacrime agli occhi per quanto mi sento amata cioè veramente non te lo so spiegare a voce adesso mi viene anche un po devo frenare un attimo le lacrime in questo periodo sono molto emotiva non cioè chiedi chiedi aiuto perché l'aiuto ti arriva stanno tutti intorno a te stanno lì ti vogliono aiutare tu non li vedi perché questa realtà è fatta apposta così questo è quello che ti voglio dire è una matrix tu non vedi le cose più importanti c'è una frase che dice l'invisibile non è visibile agli occhi no aspetta non mi ricordo vabbè comunque le cose importanti non sono visibili agli occhi questo è il senso l'invisibile non è visibile agli occhi grazie quindi ecco lasciati andare affidati cioè proprio la fede che cos'è la fede la fede è credere in quello che non vedi perché grazie siamo tutti bravi a credere in quello che vediamo come Sant'Omaso invece Sant'Omaso ci insegna proprio questo guarda che devi sviluppare la fede devi sentire ascolta i messaggi che ricevi magari c'è una canzone che ti manda un messaggio vedi delle piume io per esempio vedo piume sempre ovunque vedi monetine c'è anche un altro video in cui io spiego te lo metto sempre qui nel box dei commenti come percepire la presenza degli angeli tu non sei mai da solo ci sono gli angeli ci sono i maestri ascesi alcuni addirittura dicono che gli angeli sono i maestri ascesi quindi ecco ti invito proprio a sentirti sostenuta da loro e a adesso il compitino diciamo tra virgolette è quello di cercare qual è il tuo maestro ok cerca il tuo maestro me lo scrivi qua sotto nei commenti qual è il maestro che ti è che senti più vicino a te e ti aspetto al prossimo video iscriviti al canale se ti è piaciuto e poi iscriviti al mio gruppo riscopri la tua bellezza con geo perché lì faccio anche delle dirette molto molto belle in cui per esempio faccio delle letture personalizzate insomma entri a far parte della della nostra famiglia va bene ti aspetto e ti do un bacione muah